Quest'anno la manifestazione per la consegna dei premi ai Lucani Insigni inizia con un incontro fra le personalità che riceveranno il riconoscimento e i ragazzi di alcune scuole. Una scelta significativa per il vicepresidente della Commissione dei Lucani nel Mondo, Michele Napoli. Nel mondo globale il tentativo di ripristinare quel sano senso di appartenenza è fondamentale, soprattutto pensando alle future generazioni. L'elemento di straordinaria novità, va dato merito alla Commissione dei Lucani nel Mondo, è proprio quella di aver voluto questa volta partire dalle nuove generazioni. Nella manifestazione di sabato al castello di Lago Besole, quindi in una location straordinaria che è un po' il simbolo della Basilicata, si parte dalle scuole cercando di rappresentare quanto importante sia riconoscere il proprio senso di appartenenza. E l'aver voluto poi destinare questo premio a personalità importanti, credo sia anche un nuovo viatico che si intende perseguire, cioè quello di elevare sempre più questo premio mirando il riconoscimento in favore di soggetti, personalità, uomini e donne che hanno adeguatamente rappresentato quelli che sono gli stili comportamentali del popolo lucano.